Siamo che si apra una trattativa seria. Io di annunce, di chiacchiere l'ho già sentita anche troppo. E' da luglio che non ci sta incontrando. Noi queste cose un anno e mezzo che le abbiamo proposte. Adesso ci vogliono 40 morti per decidere che dobbiamo intervenire. Hanno convocato lunedì mattina, bene, si apre una trattativa. Non sia il solito film che ci tengono mezz'ora a Palazzo Chigi per chiederci cosa pensiamo per poi fare quello che gli parli. Lunedì ha un senso se si apre una trattativa. Noi abbiamo presentato una piattaforma. Fare una trattativa vuol dire che si viene via da lì, non dopo un'ora, ma si viene via da lì quando si è fatto un accordo che ha risolto i problemi. Se c'è bisogno si sta lì anche due giorni, tre giorni, dietro via, come abbiamo fatto altre volte. Basta chiacchiere e anche deleghe in bianco. Basta. Noi di deleghe in bianco non ne diamo nessuno. E' il momento di avere delle risposte precise alle piattaforme che abbiamo.